Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, novità in arrivo come sempre per i prossimi giorni di Fortnite. In teoria oggi è il primo giorno d'estate quindi dovrebbero essere disponibili forse questo pomeriggio con l'uscita del Fortnite le sfide della 14 giorni di Fortnite. Ma ci sono ragazzi ancora dei file scoperti proprio nelle ultime ore e delle anticipazioni ufficiali direttamente da Epic Games. Nel video di oggi infatti parleremo di nuove cose per Fortnite X Stranger. Nuove elementi, nuovi elementi che ci faranno capire come la collaborazione è sempre più vicina. Qualcosa di particolare succederà a Mega Mall, ai grandi magazzini. Ma parleremo anche ragazzi del nuovo veicolo in arrivo, non so se lo avete già visto, ma molto divertente a tema estivo. Ve lo spoilerò un pochettino e se abbiamo tempo anche nuove LTM come vi anticipavo nel video di ieri che sono state scoperte. Voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale. Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video o delle mie live. Ma prima la domandina raga ve la devo fare che ci tengo un botto a leggere i vostri commenti. Qua sotto mi rispondete sempre in tantissimi e io vi leggo ragazzi domanda di oggi mi interessa un sacco. Ma com'è la nuova modalità nascondino? Io non ho ancora avuto tempo di provarla. Alcuni di voi lo hanno fatto. Io ho visto il trailer ovviamente qualche spezzone di gameplay ma proprio da voi che invece la state giocando. Com'è? Dai fatemi sapere qua sotto nei commenti se vale la pena di essere provata oppure no. Ma quindi ciancio alle bande e banda alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il nuovo annuncio di Epic Games. Risale più o meno alle 11 di ieri sera ragazzi come vedete alle mie spalle un'immagine molto conosciuta nelle ultime season di Fortnite. Sto parlando del terzetto e non è un terzetto qualunque ragazzi. Annunciato il primo torneo in tre ragazzi con questo post direttamente su Reddit. Following this week the Epic Office allora loro ci dicono ve lo traduco senza farvi la lettura. Gli uffici di Epic Games sono chiusi da 24 giugno all'8 luglio. Se ne vanno in vacanza quindi molto probabilmente non avremo neanche grandi notizie un po' come l'anno scorso insomma lo sappiamo. Ma in questo tempo in questi giorni che sono chiusi dicono non ci saranno tornei ufficiali. Ma al rientro nel weekend del 13 e 14 luglio primo torneo competitive ufficiale in trio ragazzi. Quindi tanta tanta roba non ne sappiamo più di così quindi i premi le modalità come funziona se c'è un evento dal vivo non sappiamo nulla. Ma è un annuncio davvero freschissimo e anche voi siete praticamente i primi a saperlo. Quindi mi raccomando trovate un paio di compagni di squadra forti che ci si dà dentro di brutto. Ma andiamo avanti ragazzi e ahimè 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 brutta notizia brutta notizia sia per me ragazzi che per molti di voi. A me ha fatto anche un po' storcere il naso questa notizia alle mie spalle. Lo vedete ovviamente il nostro drift alla deriva. In italiano una skin che non ha usato nessuno né dalla season 5 né tanto meno nelle season successive. Adesso entra in lobby e pieno così di drift ragazzi. Io non so cosa dire ma perché parliamo del drift perché come sapete sono state annunciate è stata annunciata una versione che poi in realtà è una versione in due in duo con la maglietta e senza maglietta. E purtroppo ragazzi vi confermo come in realtà fanno anche gli utenti su reddit che lavorano in Epic Games non sarà uno stile aggiuntivo di chi ha la skin. Alla deriva sarà una skin shoppabile nello shop. Io non so bene come reagire a questa notizia perché cioè va bene ok tu te la shopee non hai se non sei arrivato ad avere il drift alla fase finale easy non ce l'hai. Però almeno a chi c'era arrivato almeno a chi ce l'aveva secondo me potevano darcela. Comunque ragazzi epica quindi 1500 V-Bucks da cacciare giù prepotenti se volete la nuova skin. Uè se li cacciate giù prepotenti codice creator x주�erone porca di quella magliala. Eccolo qua ragazzi invece il nuovo argomento la collaborazione che già vi avevo anticipato oramai una settimana fa. Fortnite x Stranger Things che cos'è Stranger Things per chi ancora non lo conoscesse è una serie tv diciamo chiamiamola serie tv che si vengono su Netflix ovviamente ambientata negli anni 80 in questa city dove sparisce un ragazzino che fa parte di un gruppo di quattro e appare lo stesso giorno una ragazzina con dei poteri paranormali e da lì si sussegue tutto un discorso di cose abbastanza strane. Avevamo visto che Geoff Keighley uno dei maggiori esponenti a livello giornalistico nell'ambito di videogiochi e ultimamente anche di serie tv aveva confermato che direttamente dalle tre di Los Angeles Netflix annunciava la collaborazione con Epic Games ma da pochissime ore viene twittato sulla pagina ufficiale di Stranger Things Party at the mall tonight 7-11 post meridian. Quindi alle 7 e 11 di sera io credo che ci sia un collegamento con la serie che io ho seguito pochissimo giusto per informarmi potrebbe succedere qualcosa e sappiamo che ci sono degli elementi come già vi avevo fatto vedere che collegano proprio il mega mall alla serie il walkie ad esempio quindi la gelateria e casualmente casualmente da poche ore oramai da ieri nella modalità parco giochi nel grande magazzino proprio vicino alla gelateria sono presenti dei nuovi consumabili a forma di gelato che danno un po' di salute 5 di salute non sappiamo se sia proprio oggi in game l'evento questo è quello che viene twittato io riporto quello che scopro ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua alle mie spalle il nuovo veicolo in arrivo su Fortnite si chiamerà surfboard quindi tavola da surf in poche parole così come ci faceva già suggerire l'oggetto in sé e come vedete un nuovo elemento a tema estivo che non poteva mancare dopo tutte queste piccolezze che vengono inserite tra cui ad esempio le modifiche della mappa con il pallone gigante gli ombrelloni l'esdraio i chioschi dei gelati arriverà questo veicolo ma sembrerebbe ragazzi che sia utilizzabile solo in una LTM dove si dovrà gareggiare con altri giocatori sul surfboard un po' come l'LTM del fai centro in centro insomma una roba dedicata io credo che sia in creativa ragazzi non so perché ma associato ovviamente lo abbiamo già visto il Neon Tropics quindi la copertura per armi e veicoli che se non ricordo male fa parte dei premi della 14 giorni di Fortnite insomma ragazzi ci sono davvero un sacco di cose che giorno per giorno vengono un po' scoperte un po' sistemate e che continuano a portarci piano piano anche se non tanto piano verso il termine di questa season che vi ricordo terminerà proprio il 31 luglio io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi fra una mezz'oretta cominciamo la live ciao iscrivetevi al canale